Bitonto onora i caduti in guerra e celebra il 75esimo anniversario della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista durante la seconda guerra mondiale con una breve e sobria cerimonia per la deposizione di una corona d'alloro ai piedi del cippo commemorativo all'interno della villa comunale che fu installato nel 1965 dall'allora giunta di Domenico Saracino. Non è una festa di una parte politica o sociale dell'Italia, è una festa che ricorda un momento storico molto buio, molto pesante che inevitabilmente assomiglia a quello che stiamo vivendo adesso per le ricadute economico e sociali che stiamo vivendo, l'hanno detto persone molto più autorevoli di me. Ed è per questo che deve essere vissuta non soltanto ricordando la vittoria contro il nazifascismo ma al di là di questo anche per le varie perdite che noi abbiamo subito come Bitontini, tanti partigiani Bitontini morti. Ed è per questo che abbiamo deciso ieri di ricordare i nostri morti, i nostri defunti con un omaggio floreale perché purtroppo tra le varie sofferenze, i vari dolori a cui ci stiamo sottoponendo a causa della pandemia c'è anche quello di non poter neanche andare a pregare per i nostri defunti, né in chiesa né al cimitero. E poi dopodiché ricordarli oggi qui in Villa Comunale dove c'è un monumento, c'è un ricordo che è stato lasciato storicamente per loro. Con il sindaco anche il comandante della polizia locale Gaetano Paciullo e la presidente della sezione cittadina dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia che ha ricordato la partigiana fiorentina Irma Marchiani, fucilata a Bologna dai tedeschi il 26 novembre 1944. Quello che ci deve tenere uniti e soprattutto in questo periodo il senso comunitario, Ampi è presente sul territorio anche per portare un punto fermo su quelli che sono i valori della Costituzione, i valori della Resistenza che ci hanno portati oggi ad avere comunque la libertà e la democrazia in questo paese. Per cui è veramente emozionante essere qui, tra l'altro vicino ad un cippo che ricorda proprio una donna, una donna partigiana che è stata uccisa dalle truppe fasciste, dalle truppe tedesche. E quindi ricordiamo anche tutte le donne che si sono spese, che spesso non vengono ricordate o ricordate a sufficienza, spese proprio per la causa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.